Ciao, sono Simone Brancozzi, commercialista, revisore contabile e sono soprattutto lo ideatore del cruscotto di controllo. Come sai, dal 16 marzo del 2019 è entrato in vigore il secondo coma del 2086, che impone a tutti quanti gli imprenditori di installare in azienda un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Questa comporta una grandissima rivoluzione a livello professionale. Come sai, ormai la professione di dottore commercialista si sta completamente rivoluzionando e in futuro negli studi non si farà più la prestazione di servizi, ma si farà invece la consulenza. La consulenza che in tutti quanti gli studi fatti dagli economisti viene vista come in grandissimo aumento. Quindi la gente cerca consulenza, attenzione, non cerca servizi, non cerca gente che compila un modulo, ma cerca qualcuno che gli possa cambiare la vita. Il 2086 è una rivoluzione epocale che verrà completata adesso con l'introduzione del locri presso le camere di commercio, ma questo obbligo di dotare l'azienda un adeguato assetto organizzativo e amministrativo contabile c'è già. E se qualche amministratore non lo fa, paga lui i debiti dell'azienda. Articolo 2476, sesto coma. Questa cosa, se tu la unisci alle altre due gambe dei ricavi, che sono appunto i servizi ripetitivi che dovrebbero coprire i costi. Poi ci sono gli incarichi professionali, tipo le perizie, gli incarichi di curatele, le trasformazioni, le fusioni, eccetera, eccetera. La terza gamba appunto della consulenza, i servizi ad alto valore aggiunto, sono le tre gambe dei ricavi che devono sostenere lo sviluppo dello studio futuro. Ho preparato per te un evento unico, lo porteremo nelle sedi vicino a te, quindi basta che ti informi qui in questo sito, vedi la sezione eventi, ci sono le ultime date in programma, ma ne facciamo sempre mensilmente, quindi informati sulla data più vicino a te, più conveniente a te. A numero limitato, quindi massimo in aula saremo una trentina e quindi avrò anche l'occasione di parlare personalmente con te, anzi, alla fine di questo incontro possiamo avere una sessione di un quarto d'ora, una mezz'oretta, possiamo stare insieme e parlare, mi tengo il tempo per cercare di parlare con tutti, delle tue esigenze, se vuoi fare degli accordi particolari, eccetera, eccetera. Ma di cosa faremo in questo evento? Vedi, esiste uno strumento che è la Balanced Scorecard, che è stata creata e ideata nel 1992 da professori Kaplan e Norton, che da sola permette all'azienda di rispettare il 2086 secondo comma. Quindi il controllo di gestione che è diventato obbligatorio all'interno delle aziende, ma soprattutto è diventato obbligatorio il controllo di gestione qualitativo e l'unico strumento al mondo che misura, che è la sintesi del controllo qualitativo, è la Balanced Scorecard. Infatti il 2082 impone non solo un adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile, ma che questo assetto debba poter misurare il going concert, la continuità aziendale, e debba poter prevenire la crisi di impresa. E cosa faremo in questo evento di un solo giorno? Quindi iniziamo la mattina e la sera sei a casa. Parleremo di come si costruisce a mano, proprio come con la contabilità. Io sostengo che per fare la contabilità tu prima la debba fare a mano e poi la fai col computer. E così è con il cruscotto, con la Balanced Scorecard, perché poi il cruscotto è una Balanced Scorecard. Quindi io ti insegnerò da un foglio di carta bianco proprio a costruire una Balanced Scorecard e insieme poi costruiremo questa cosa, costruiremo tutte quante le altre attività come l'analisi scenario, l'analisi SWOT, la determinazione della vision, della mission e insieme appunto alla fine genereremo un cruscotto di controllo su carta. Alla fine dell'evento ti presenterò la softwareizzazione di questo procedimento, cioè invece di metterti tu lì a farla a mano, ti do un software, ti do la possibilità di disporre di questo software che tu puoi usare per i tuoi clienti, non tanto per darlo ai tuoi clienti, ma per fare un report, quindi per fare un servizio ai tuoi clienti. E tramite questo servizio, alla fine del corso, ti dimostrerò, perché già intanto i vecchi corsi sono andati benissimo, sono sempre pieni, ma in questi corsi ho insegnato a qualcuno, a chi mi ha avuto il piacere e la bontà di seguirmi, come poter guadagnare fino a 100.000 euro in più all'anno con l'adempimento del 2086. Quindi ti dimostrerò come fare per poter trasformare, anzi da poter generare dai clienti che già hai, tramite questo nuovo adempimento del 2086.it, fino a 100.000 euro di fatturato. Quindi non perdere tempo, informati qui sulla sessione eventi di tutti quanti i particolari, se hai problemi chiamami, il mio numero lo trovi qui, senza nessun tipo di problema, l'evento è soltanto per commercialisti, poi se c'è qualche imprenditore che vuol partecipare è il benvenuto, ci mancherebbe altro, anzi, devo dire che il 20% dei partecipanti sono sempre imprenditori, perché è importante ascoltare gli imprenditori, perché noi del customer satisfaction, di cosa dicono i clienti nostri, di cosa pensano i nostri clienti di noi, non lo sappiamo e avere anche l'ascolto di questa campagna è una cosa importante. Quindi non perdere tempo, informati, iscriviti, è tutto completamente gratuito, non devi pagare assolutamente niente e se vuoi avere poi anche un controllo, un colloquio con me, nella registrazione scrivi pure che vuoi avere 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quello che vuoi per parlare con me. Un caro saluto, ti aspetto ai miei eventi da Simone Brencozzi.